Oh, raga, non è scesa. Sei sicura che sei scesa? Eh? No, perché sai, non è che va tutto bene, sì, eh. Oh, hai capito, eh? Oh, raga, sei sicura che sei scesa. No, ma, che cosa? Questo è l'originale, ragazzi, cioè spaventiamoci, inquadriamola bene, inquadriamo, inquadriamo, inquadriamo. Prima mangiavoli circa così. Cioè, c'erano i genti che scintillavano. Bella. Eeeh, mamma mia. Oh, oh, oh. Raga, spaventuzza. Eh, eh, vale la faccia dell'esorcista. Eeeh, vale. Che bello, ragazzi, pittà, 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 raga, fammi un bambino.